Stanno nella legge di bilancio 2019 le speranze degli azionisti della BPV rimasti a mani vuote dopo il crollo dell'Istituto di Credito Vicentino. La manovra approvata definitivamente dalla Camera nei giorni scorsi prevede un rimborso del 30% del prezzo di acquisto delle azioni. Questo significa che chi ha comprato al prezzo più alto, 62,50 euro, potrà ricevere un'indenità di 18,75 euro fino a un massimo di 100.000 euro. La stesura del capitolo relativo ai risparmiatori colpiti dai crack bancari, BPV, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, in pratica tutte le banche finite in liquidazione, consente di accedere all'indennizio senza passare dall'arbitrato, ma bussando direttamente alle porte del MEF. Il Ministero formerà una commissione con il compito di vagliare le richieste e procedere alle liquidazioni. Il passaggio dell'arbitrato è stato cancellato sulla base delle statistiche di chi fino a oggi vi ha fatto ricorso. Il 97% dei risparmiatori delle banche venete, per restare in tema di BPV, ha avuto ragione. L'operazione, finanziata attraverso i conti dormienti, ha una dotazione di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Secondo calcoli al momento ancora approssimativi, per soddisfare tutti gli azionisti della Popolare di Vicenza serviranno circa 600 milioni. I primi ad essere risarciti saranno i risparmiatori con ISEE inferiori a 35 mila euro. Tutti potranno presentare il conto, fatta eccezione per le società con più di 10 dipendenti e un fatturato sopra 2 milioni. Tutto sarà più chiaro con il decreto attuativo, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che anche quegli azionisti che hanno accettato il ristoro di 9 euro per azione proposto da BPV all'inizio del 2017 per contenere le rivalse giudiziarie, potranno chiedere il risarcimento al netto di quello già ottenuto. Le azioni avviate sia in sede civile che in sede penale dal 2015 ad oggi, il commento dell'avvocato Francesco Querci, che insieme alla collega Francesca Meucci assiste 130 azionisti pratesi, hanno avuto il merito di tenere alta l'attenzione sulla vicenda legata alla BPV, inducendo il governo a forzare la mano per arrivare a un risultato che, seppur ridotto in termini percentuali, rende giustizia ai cittadini rimasti incastrati dal comportamento dei vertici della banca.